il copertone era sbagliato anche per quello che tante volte slittava la ruota dietro guarda che l'ho cambiato, l'ho cambiato due giorni fa ho preso quello che va bene sia per campetti sia per questa e se a soglia ma va bene? buono adesso va bene vedrai provalo ma perché l'ha parcheggiato per in prima c'è la pedivella troppo piccola guarda che l'ho cambiato è totalmente diversa guarda guarda che l'ho cambiato guarda che l'ho cambiato oh vaffanculo perca guarda che l'ho cambiato guarda che l'ho cambiato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.